Il corso di perfezionamento è una grande opportunità per i giovani, giovani neoloreati, giovani che stanno per laurearsi o giovani che hanno concluso i loro studi universitari da uno o due anni, perché danno loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro nel settore tributario senza grandi difficoltà. È ovvio che la formazione universitaria non è la sola sufficiente per poter essere inseriti ed avviare un'attività nel mondo della professione nel settore tributario con una adeguata conoscenza delle norme, della modalità con le quali questi sono applicati. Quindi il corso dà la possibilità di un inserimento graduale all'interno degli studi professionali e anche delle aziende, coniugando la parte teorica della normativa con quella della pratica applicazione della prassi della giurisprudenza. Questa è la vera opportunità che viene data ai 15 partecipanti al corso di perfezionamento che si interrò nel 2022 per la quarta edizione. Il corso consente ai partecipanti una buona interazione tra la parte teorica e la parte pratica del diritto tributario dell'impresa internazionale ed in particolare offre la possibilità di poter esaminare questioni concrete che poi saranno la base dell'attività professionale svolta vuoi negli studi professionali, vuoi nelle aziende.